Via Libera alla metanizzazione delle zone periferiche di Ponte Cagnano-Faiano. La Giunta ha approvato il progetto presentato dalla società Unareti per l'estensione della rete in diverse aree del territorio picentino. L'intervento porterà il gas metano in zone non servite, come via degli Alburni, via Diaz, via delle Sirene, via Pompei, via Cavalleggeri e località Baroncino. Il piano ha un costo di 345 mila euro e sarà realizzato a totale cura e spese del Lunareti. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dall'esecutività dell'atto varato dalla Giunta. Un provvedimento che rappresenta il primo passo di un progetto che sul medio-lungo termine ha come obiettivo la metanizzazione del litorale. Noi abbiamo raccolto la richiesta di molti cittadini nella parte alta di Ponte Cagnano per spiegarci meglio a Monte dell'autostrada per poter concedere ad una rete che detiene l'infrastruttura degli ampliamenti lungo alcune strade comunali e anche lungo delle provinciali. Tra l'altro mi preme sottolineare che uno di questi interventi che sarà prioritario e che chiederemo di realizzare per primo sarà quello sulla strada che collega Sant'Antonio a Faiano via Pompei in modo da poter asfaltare definitivamente quel tratto viario cosa che non è stata fatta finora proprio per realizzare questa infrastruttura. Sì effettivamente c'è questo è un primo passo grazie anche ad una rete che ha accolto la nostra volontà di ampliare l'infrastruttura. Il costo di questa infrastruttura è a carico totale di una rete che anche se è in regime di prorogazio per la concessione riverserà questi costi sul futuro diciamo subentrante quando verrà realizzata la gara a livello di ATM Salerno. Poi abbiamo già ragionato con una rete in un prossimo futuro o con chi verrà dopo c'è la volontà da parte dell'amministrazione di garantire questo servizio anche sulla ritorale dove però l'investimento è molto più importante e una rete ci ha chiesto un po' di tempo per valutarlo e per capire anche le reali esigenze e quante utenze si trovano a lanciare. Però noi le abbiamo sensibilizzate su questo aspetto.